Che cos'è quel ghigno di sfida? Concorrenti pronti a cominciare! L'incontro è inizio! L'incontro è inizio! Brutto stronzo! Presto non sarai che un mucchietto di cenere! Ti faccio vedere subito! Che guardi sono qui! Addio! Come speri? Come speri? E' già capo! Come hai potuto sperare di riuscire a sconfiggermi con la tua misera forza combattiva?